eccoci allora siamo all'interno del bivacco di san glisente siamo a 1960 metri e se volete fermarvi anche a dormire una notte qui bellissimo letti a castello proviamo la cucina tavolo da pranzo c'è un bivacco di san glisente ma ci sono sui lupi dietro qua il bivacco la fonte cali c'è la colma di san glisente